Ehi Lily, vuoi avere tu l'onore? No, fallo tu, io voglio godermi lo spettacolo. Speravo che lo dicessi, ok? Oh mio Dio! Lui è Ryle, mio fratello. Il primo cliente ufficiale? Beh, devi comprare qualcosa se vuoi essere considerato un cliente. Abbiamo tutti un'idea di cosa può essere l'amore. Voglio rivederti. Mi stai già vedendo. Dai, hai capito. Quel legame speciale che senti dal primo bacio. Ehi, che cos'hai? 15 secondi. È questo il tempo necessario per cambiare ogni cosa. Mi dispiace tanto. Never knowing what they'll mean. Atlas. Lily Bloom. Quanto tempo. Sì. Che ci fai qui a Boston? Ho appena aperto un negozio di fiori. Mi ricordo ancora quando ti vedi alla finestra. Sì, eravamo dei ragazzini. Quello è il tuo ragazzo? Sì, lui è Ryle. Che è successo? Sei inciampata. Tu ami? Io amo te. Non ti ho chiesto questo. Se un giorno avessi una figlia, che cosa le diresti? Se venissi a dirti che la persona che ama le fa del male, tu che cosa le diresti? Tu non hai nessuna colpa. Per quanto sia difficile la scelta, se non rompiamo noi lo schema, lo schema romperà noi.